On top of the world, on top of it all, trying to feel it being simple, yeah, yeah, I'm tired on top of the world Benvenuti amici di EstiSportivo.com, siamo qui con il mister Roberto Ferraro al quale chiediamo un commento della partita Buonasera, commento della partita, è stata una partita abbastanza agevole per noi, la squadra era l'ultima in classifica anche se inizialmente abbiamo avuto qualche problema di assestamento visto l'infortunio del nostro posto titolare Petruzzelli-Vincenzo però poi abbiamo subito inquadrato la squadra e abbiamo controllato la partita dal primo all'ultimo punto Abbiamo visto esordire tanti giovani, tanti ragazzi, è stata una scelta ben precisa? Sì, la partita permetteva, è bene provare tutti in modo tale che si sentino parte della squadra e poi in caso dovessero poi servire in un prossimo futuro, è bene che tutti sappiano come muoversi in campo La prossima partita con il Lucera in trasferta, avete già avuto modo di conoscerli? In realtà no, perché il Lucera è una delle nuove squadre salite in Serie C Da tanto che non ci scontravamo, sia in Serie D che in Serie C come Udas di prima squadra era da tanto che non ci scontravamo Conosciamo gli elementi perché la squadra è composta per metà da atleti vecchi che già hanno militato in Serie D, Serie C e quindi già li conosciamo, per metà è fatta da giovanissimi dell'Under-19 che abbiamo incontrato con la nostra Under-19 È una squadra che se galvanizzata può dar fastidio anche a noi e a tutte le squadre delle prime posizioni Per Assi Sportivo è tutto, grazie Per Assi Sportivo è tutto, grazie